vai vai ti seguo ah sicuro oh e io? eh buia ecco yeee ma premi il 1 che cosa sofisticata dai ah non andati qua quando so coglione vai forte forte vai che ce la faccio sei scemo al posto di scopare ok ok e ora? vai il big bang non pensare ai salta puoi farcela sicuramente vai wow uamene che è un dato così lontano vista niente di che da fondo niente di che resta con me oddio era lontano eh però si poteva fare dai quel muro tutto scassato ma che non lo parlo non qualsiasi convento fortissimo fortissimo sono Hulk che fai vai no pensavo di fare una scivolata tra poco c'è un salto questo è un aspetto di rapide ragazzi oh sei muy tweaky e muoviti oh tutta tutta una tecnica ragazzi peccato avete peccato wow che ci ballo vai su pronto ragazzi guarda qua posso dondolarmi un sacco guarda qua posso dondolarmi un sacco guarda qua guarda qua che ci ballo ragazzi voglio fare pure io vai boom guarda la pittura qua adesso vediamo questo qua che grande performance è uno scarso che cazzo fa ma cioè ho fatto meglio io che non lo so fai muoviti cioè che cazzo fa mi perde sul lembo muoviti forza vedi sono più veloci di te eh se saltasse magari mamma mamma questo è un coglione fai il giro eh sulle tapparelle che si rompa ecco ma che bello qua dentro andiamo 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 prima che cazzo tutto bello proprio oh eia e perché sicuramente ma che mi abbascio ah ho capito ma facciamo come dentro prendiamo l'occhio dell'aquila per individuare tutto eh non ho visto che ha fatto vabbè sarà saltato scivolando aspetta sto facendo due piegamenti 1 2 3 4 aspetta che sto preparando per il salto facendo due piegamenti 5 ok c'è ragazzi un altro due qua 1 2 3 i piegamenti sono importati ragazzi mi raccomando ecco qua ok adesso possiamo andare vai 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 uuuu gulo che botta sembia si è rotta una coscia andiamo andiamo ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'hai fatta sei forte fazza andiamo andiamo avanti e se l'ho fatta e mi accorgato questo di qua ok e io si davvero dai uo vedi l1 vai visto sono bravissimo ecco grazie l'ho fatta un tiro uuuu 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 vai adesso lo accattivai e mo la corda come si viene ah già si è allevata vabbè tutta una tecnica è detta automatica ma che cosa ecologica su gioco uuuu uuuu che cazzo fa ma no ma no un'azzo si buttava giù come si fa a salire su una scala in birimbo uuuu 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 c5.5 uuuu 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 n uuuu avremo uuuu uuuu s uuuu tu sei fin troppo svelto Lo sai, vero? Va bene. Ho trovato lavoro. Pagano bene. Molto bene, ma... Starò fuori città per poco. Quanto sarebbe poco? Cicca. Un anno? Al massimo, ma tornerò prima che tu te ne accorga, credi? Mi pianti i nasi? Cosmi, ce l'ha non essere così tragico. Quindi non ti è bastato abbandonarmi lì dentro? Come puoi farmi questo, Sam? Ehi, lo faccio per il tuo bene. Quei soldi saranno lenti di entrambi. E nel giro di un paio di giusti. Portami con te. No, tengo il testo me stesso. Contribuirò. Senti, so che il farlo trofio ti fa spiegare. Sei quanto? Sì, ma ora per te è la soluzione migliore. Capito? Davvero, fidati di me. Non è giusto? Ah, certo. Ehi, abbiamo mai avuto niente di giusto? Ma ce la siamo capata? No? Certo. Beh, sai, la moto non era l'unica sorpresa. E dovrò svelarti la seconda. Cosa? Cosa? Ho trovato le cose di minima. Quelle vendute da papà, ho rintracciato l'acquirente. Ti avverto se lo dici solo per consolarla. No, 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 te lo giuro. Dove? Che bella. Ma al di là della città. Andiamo un attimo al di là della città. Va buo. Vai, vai. Non ti guida io però, che pollo. Muoviti, ah. Ovvio che sì. Cioè, si può dire? No, ovvio che sì. Guai, ho già cresciuto. Che bello. Come passano i ghiami, ragazzi. Ecco i miei piccoli. Ah, sì, sì. Non è un caso in modo buffio. E qua, eh. Appunto, dovrà impegnarti in modo di più. Eh. Con un quadrato, con un quadrato si dà pugno, lo so. Boom, boom, boom. Ecco qua, scossa, hai visto? Oh, che cazzo è? Uh, uh. Mi ha dato forte la botta, oh. Vai, vai. Allora, ragazzi. Oh, attenzione. Guardi, gullo. Non morire di scattare. Vai, vai. Fan cuna a tutti. Bravo a te. Oh, che è il sussiccoso? Forza, forza. Oh, mori. Mori. Oh. Tuo, fammi. Aspetta, però. Vai. Oh, triangolo, triangolo. Attenzione. 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 Ancora triangolo. Attenzione. Vai col triangolo. Vai col triangolo. Eh, ma non scrivo mai, però. Vai col triangolo. Ok, quadrato. Ok, ci siamo. Ok. Cazzo, non ho il palo. Tiè, vaffanculo. Non lo faccio mettere al palo come a te. So, stronzo. Vengo di romponocchio, ora sì che cosa. Ah, che cazzo vuoi? Vaffanculo, va. Tiè. Beccate. Tiè. Boom, boom. Mori, mori, mori. Se me, se me rompe qualche passo qua. Oh, guarda. Eh, mo tocca me, va, vaffanculo. Boom, boom. Boom. No. E già, stavo vatten... Che palle. Abbastanza alto per le gioste. Attirati al culo. Solitaria. Vuoi spaccami il culo? Non dove ne fanno solitaria, ho detto. Ma vado a far solitaria. Comunque, che bella grafica, raga. Apre, apre. E dove è il bagno? Ah, appunto. Che cu... Stanno facendo così, cioè, quando Neto va nei carceri chiede del bagno. Incredibile. Ah, quindi su me, quando sono andato su quella moto, sono arrestati voi. Eh, a due forse assemblano, perciò, a me si assemblano. Oh, tu non c'è mai niente, c'è. Stavo facendo un gran perso. Eh, eh, va bene, vieni. Piano, vieni. Ah. Oh, eh, già. Che cazzo, sono camminato. Eh, vieni a chissà, che cazzo fai? Bene, calmate. Calmate, punto. Ok, ragazzi. Questo è il secondo capitolo, un luogo infernale, quindi spero che vi sia piaciuto questo primo video. Per me è stato bellissimo. Lasciate tantissimi like per supportare la saga. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie.